Ciao a tutti cari amici, buonasera e bentrovati con il solito nostro interattivo con la canalizzazione del pensiero dedicato all'amore. Io vi ricordo come al solito che sono stese generali, quindi essendo costituite da tante energie e da tante situazioni, naturalmente non possono questi video risuonare con tutte le vostre relazioni, i vostri rapporti, e quindi ovviamente va colto il significato che può servire a voi, che può essere una frase, una parola, può essere anche un contesto che in qualche modo deve risvegliare una situazione, deve risvegliarvi dei ricordi, deve risvegliarvi anche su un determinato comportamento, magari in modo che state agendo verso la persona e quant'altro. Insomma, vi ricordo anche che sono stese generali e di conseguenza vanno bene per tutti i tipi di coppie, in quanto appunto generali, sia per donne che guardano per uomini, uomini che guardano per donne e coppie arcobaleno. E inoltre sono validi dal momento in cui vengono visti. Allora, io vi lascio un attimo, scegliete a distinto tra la variante 1 e la variante 2, e poi andiamo a vedere con i nostri oracoli del vorrei dirti che, le parole, le frasi che vorrebbe dire questa persona, una carta motivazionale per voi, un consiglio e anche i segni zodiacali. Allora, io parto subito con la variante gialla e andiamo ad aprire la stesa, vediamo che cosa succede questa sera per voi, variante gialla. Naturalmente, poi, ditemi nei commenti se avete sentito risuonare la stesa, se l'avete sentita appartenere alla vostra condizione, alla vostra situazione. Io vi ricordo sempre che non possono in alcun modo sostituire un consulto privato, o se volete qualcosa che riguardi la vostra situazione nello specifico, dovete chiedere un consulto privato, lo potete fare via mail oppure via WhatsApp e trovate tutto sotto nella descrizione di ogni video del canale. Allora, vediamo un po' che cosa succede questa sera. Beh, direi che qua abbiamo una persona che vi pensa molto, vi pensa con amore, con del sentimento, qui c'è proprio romanticismo, c'è accettazione, del sentimento, è una persona probabilmente che è da tanto tempo, che è distante da questo tipo di emozione, è distante da un coinvolgimento emotivo e sentimentale. Infatti qua mi parla di una persona che si sente sola, si sente isolata, oppure lo è stata per molto tempo, e che sembra finalmente abbia trovato una sorta di isola felice con voi. Tant'è che dal nulla, da una situazione che apparentemente sembrava totalmente inattiva, improvvisamente è sbucato qualcosa di fertile, di prezioso. Ed è appunto questo sentimento. Quindi, secondo me, questa persona sta riflettendo molto su questo, ma anche sulla difficoltà un po' che ha avuto o che ha tuttora nell'accettare questo sentimento, perché è come se vedesse quasi questo amore qualcosa di surreale, quasi di impossibile. Abbiamo qui una persona che in qualche modo deve forse risolvere delle questioni personali, ha bisogno di trovare un equilibrio, ha bisogno di risolvere anche dei problemi, che possono essere della persona stessa, possono riguardare rapporti passati, che in qualche modo hanno influenzato negativamente questa persona, e che naturalmente si sta portando appresso nelle relazioni con voi, nella relazione con voi, ma anche nelle relazioni future. È una persona comunque che cerca pace e serenità. Io vedo che fa fatica a lasciare andare qualcosa, probabilmente, del suo passato. E voi, secondo questa persona, siete un po' una guida. Qui mi parla di insegnamento, di capacità di apprendere, quindi probabilmente o siete effettivamente in una situazione in cui uno di voi ha più esperienza, o perché è più colto, magari ha un'età diversa, quindi magari è più vecchio, più vecchia, e quindi ha avuto magari anche più esperienza, oppure può essere anche una persona più giovane di voi, ma che magari ha molta esperienza. E quindi, in un certo qual modo, uno dei due si sente guidato dall'altro, o ha molto da apprendere. Come potrebbe esserci effettivamente una relazione di tipo, proprio, magari un insegnante, un allievo, oppure un tutor, un apprendista, anche un allenatore, se magari è andato in palestra. Quindi potreste avere una situazione in cui c'è uno dei due che insegna qualcosa all'altro. Ma questo insegnamento sembra essere ricondotto proprio a un aiuto a superare, a rilasciare delle questioni del passato. Andiamo a vedere con l'oracolo del vorrei dirti che cosa aggiungono per la variante gialla. Allora, voglio lasciarti a coloro che hanno scelto la variante gialla. Voglio una vita assieme a te, ti penso continuamente, lo so che mi sono comportato male, nessuna è come te, e voglio che tu sia solo mia. Vediamo in fondo al mazzo cosa abbiamo. Ti ho nascosto chi sono veramente. Allora, innanzitutto qua, diciamo che è evidente che probabilmente questo messaggio deve arrivare anche a qualcuno di voi che questo deserto di questa persona l'ha in qualche modo creato. Qui abbiamo detto che questa persona è da tanto tempo che è inattiva, è da tanto tempo che si sente isolata, però non è detto che sia per forza single o da sola. Qui potrebbe esserci comunque un altro rapporto, comunque un'altra relazione che probabilmente è di fatto a livello pratica ancora in essere. Quindi per qualcuno di voi qui, se questa persona l'ha sentita distante, se percepite che c'è una freddezza a livello emotivo, qua questa persona vi dice che vi vuole lasciare. Io intuisco che qui ci sono, c'è un messaggio specifico per poche di voi che riguardano proprio probabilmente chi sa che questa persona si è allontanato da voi emotivamente, ma che fa fatica a distaccarsi. Per chi invece vede in questa persona una nuova relazione e c'è pagamento, c'è desiderio, anche se comunque questa persona sta a prescindere riflettendo, quindi potrebbe in qualche modo essere un po' distante, anche se comunque partecipe nel vostro rapporto. Qui vi dice voglio una vita assieme a te, ti penso continuamente, lo so che mi sono comportato male, nessuna è come te, voglio che tu sia solo mia. Allora, nessuna è come te, sicuramente questa persona comprende il vostro valore, ma l'abbiamo già visto perché qui ci sono delle carte di sentimento, di amore, di affetto, di accettazione, del sentimento. È una persona che vi vuole, vi desidera fortemente, qui vuole proprio stare con voi, vuole qualcosa di serio, vi vuole sua, quindi qua non escludo che ci sia anche una terza persona da parte vostra, quindi magari avete già un compagno o vi state frequentando con qualcuno, fatto sta che questa persona ha un senso di possessività verso di voi, vi pensa in continuazione, è naturalmente coinvolto. Qua dice lo so che mi sono comportato male e ti ho nascosto, chi sono veramente. Probabilmente per qualcuno di voi è una persona che nel momento in cui ha iniziato a frequentarvi aveva ancora una relazione da qualche parte, una compagna, un matrimonio, una convivenza e forse non vi ha detto proprio la verità rispetto a questo rapporto. Allora, andiamo a vedere due messaggi motivazionali per voi che servono naturalmente a voi per capire dove dovete guarire, per riequilibrare le energie, per dover, diciamo, mettervi in equilibrio perché sappiamo che nel momento in cui le nostre situazioni nella vita vanno bene poi l'universo agisce da sé. Quindi vediamo su cosa dovete lavorare voi, su cosa anche dovete guarire. Allora, qui abbiamo seguo il sentiero del giusto agire. Scelgo che i miei pensieri siano in armonia con ciò che può darmi il bene e la gioia più grandi. Va tutto bene nel mio mondo. Quindi qui probabilmente dovete un po' equilibrare i vostri pensieri. Ritornare a un'energia positiva, ad agire seguendo quello che secondo voi è giusto, ma che è giusto per voi, cioè che vi fa stare bene. Quindi non mettetevi in condizioni in cui dovete in qualche modo sopportare e rendere felice altre persone. Qui dice Scelgo che i miei pensieri siano in armonia, quindi non fatevi coinvolgere dal comportamento di altre persone. Pensate a voi, equilibrate voi le vostre energie. Poi abbiamo Sono felice del mio lavoro. Apprezzo la possibilità di aiutare, contribuire o dare una mano agli altri. Mi connetto con la creatività dell'universo e gli permetto di fluire attraverso di me in modi che mi fanno sentire completo. Allora, qui diciamo che probabilmente qualcuno di voi ha delle difficoltà in ambito lavorativo. O non sta bene nel proprio ambiente, o non è felice, non si sente appagato del lavoro, della mansione, o anche a livello economico probabilmente, ma diciamo mi viene più una questione di ruolo, di soddisfazione rispetto al lavoro. Ecco qua, dobbiamo o diciamo in qualche modo trovare una serenità in queste due situazioni o agire affinché migliorino. Andiamo a vedere un consiglio per la vostra situazione. Qui abbiamo un nuovo amore, una nuova persona ha risvegliato i tuoi sentimenti e lasciati aiutare dagli amici. Chiedi e accetta il supporto degli altri. Allora, qual è il consiglio delle carte qua? Beh, indubbiamente è quello di accettare l'arrivo di questa persona. Anche se magari vi risulta dei comportamenti un tantino sconnesso perché magari è una persona che ha delle difficoltà personali o comunque ancora in fase di riflessione, di cambiamento nella propria vita. Però qua, le carte vi dicono che questa persona è l'amore che cercate, è questo nuovo amore e quindi di lasciarlo entrare. E abbiamo anche qua lasciati aiutare dagli amici. Quindi, se ci sono delle persone che sono tra di voi e vi stanno dando una mano o cercano in qualche modo di incastrare il vostro rapporto, dateli retta, cioè lasciate che intervengano. Andiamo a vedere i segni sbiacali per la stesa gialla. Io vi ricordo sempre che se sentite risuonare la stesa potete commentare, raccontatemi la vostra storia, la vostra situazione che io vi leggo tutti. Allora, qui abbiamo il segno dello scorpione, il segno del cancro, il sagittario, il segno dell'ariete, ne prendiamo un ultimo, l'acquario. Quindi, scorpione, cancro, sagittario, ariete e acquario. Va bene, variante gialla, io direi che le carte ci hanno detto abbastanza questa sera. Vi ringrazio moltissimo perché siete sempre molto dolci, molto teneri per l'affetto che mi dimostrate. Vi invito a mettere un like se vi è piaciuto il video e ad iscrivervi al canale attivando la campanellina così vi arrivano tutte le notifiche di video che carico e vi ricordo sempre che se mi volete contattare privatamente per un approfondimento, un consulto, lo potete fare via mail a tarot tai tarot chiocciolagmail.com oppure via whatsapp al 371 636 0228 e trovate tutti i dati sotto in descrizione del video. Va bene, variante gialla, io vi ringrazio ancora, vi mando un bacione grossissimo, vi auguro una buona serata e passo adesso alla variante arancione allora, variante arancione andiamo un po' a vedere subito qual è la stesa allora eccoci qui per coloro che hanno scelto la variante arancione metto qui subito il simbolino e andiamo a vedere che cosa ci rivelano questa sera le nostre carti i nostri oracoli voi pensate sempre intensamente alla persona per cui volete la canalizzazione questa canalizzazione descrittiva e andiamo un po' a vedere che succede diciamo che qui abbiamo una persona che sembra aver bisogno in qualche modo di liberarsi qui probabilmente è estremamente da affarato è una persona che ha molti impegni molte responsabilità mi sembra un po' diciamo coperto dal lavoro sovraffatto dal lavoro dalle faccende da questioni che in qualche modo lo impegnano qui potrebbero essere impegni di qualsiasi natura lavoro una famiglia di origine un genitore un figlio è qualcuno che comunque ha una situazione stabile molto solida dal punto di vista proprio di questi impegni quindi è qualcuno che ne ha tanti di impegni di responsabilità e qua vedo che sente l'esigenza un po' di allontanarsi di prendere i suoi spazi è una persona che si sta o ha bisogno di lasciarsi andare di purificarsi di aprire la propria mente di cercare un benessere interiore e vedo che voi lo state aiutando in questo perché vi vede un po' come una guida una persona che in qualche modo lo aiuta a purificarsi a rigenerarsi qui abbiamo una chiarezza mentale quindi un uomo che in qualche modo sta facendo una sorta di ricerca dentro se stesso cosa vuole cosa sente quali sono le intenzioni cioè una persona che dopo aver fatto una ricerca attenta di quelle che sono le sue emozioni e i suoi sentimenti sta facendo una chiarezza mentale su come agire su cosa fare è una persona che vuole desidera un equilibrio qui per qualcuno di voi potrebbe esserci stato anche un litigio un fraintendimento qualcosa che questa persona comunque questa persona ha bisogno di riflettere su quanto è successo e cerca proprio di curare le ferite che gli sono state in qualche modo inferte con queste discussioni discussioni nate probabilmente da un eccesso di responsabilità di proprio di impegni che ha o verso di voi o verso altre situazioni fatto sta che qui probabilmente con questa chiarezza mentale è una persona che o vuol chiarire comunque qualcosa o ha bisogno se stesso di chiarire che cosa prova perché ci sono stati questi litigi da cosa sono derivate queste incomprensioni andiamo a vedere con l'oracolo del vorrei dirti che per la variante arancione mi hai ferito vediamo un po' che altre merce per coloro che hanno scelto la variante 2 non mi fido più di te ti ho nascosto chi sono veramente ti sogno e qui abbiamo ho bisogno di stare da solo vediamo in fondo mazzo che cosa mi dicono le carte voglio essere più di un amico per te ecco allora poi per molti di voi probabilmente o è una persona che vi ha nascosto un po' i sentimenti le vere intenzioni che aveva questa persona e mi dà l'idea qui che o ci sono stati dei contrasti o è proprio questa persona che magari ha preso un po' le distanze non dico fisiche ma magari anche emotive per far chiarezza proprio perché è sopraffatto da altre situazioni da impegni però qui è una persona che vi vuole a proprio fianco qua dice voglio essere più di un amico per te quindi mi dà l'idea che questa persona o non vi ha detto la verità perché qua dice ho bisogno di stare da solo ma vi dice anche ti ho nascosto chi sono veramente quindi secondo me è una persona che sente di appartenervi sente che siete la donna giusta o l'uomo giusto però è abbastanza confuso ha bisogno di riflettere di stare da solo sa che vuole qualcosa in più ma qui probabilmente è successo qualcosa perché mi dice mi hai ferito non mi fido più di te quindi qualcosa è successo poi mi direte nei commenti come stanno le cose vediamo due messaggi motivazionali sempre per voi quindi sempre messaggi che devono servire a voi che guardate il video per migliorare la vostra energia per riequilibrarla perché sappiamo sempre che se riusciamo ad eliminare i pesi le energie negative che in qualche modo ci invadono perché è il lavoro perché persone che incontriamo che hanno a loro volta energie negative e magari standogli a fianco in qualche modo assorbiamo tante situazioni tante realtà riuscendo ad equilibrare le cose naturalmente si attivano dei meccanismi e l'universo ci porta a quello che ci fa star bene vediamo su cosa dobbiamo un po' lavorare allora quello di cui ho bisogno viene a me con perfetta sequenza spazio temporale chiedo aiuto dicendo alla vita ciò che voglio e permettendo che accada quindi qui le carte sostanzialmente vi stanno dicendo di avere pazienza di agire in base a quello che sentite in base a quello che provate perché tutto arriva a tempo debito quindi non abbiate fretta non mettete fretta alle altre persone sono sempre perfettamente protetto quando un pensiero di paura emerge riconosco che sta cercando di proteggermi lo ringrazio e lo lascio andare con amore quindi qui le carte vi stanno cercando di dire che dovete lavorare sulle vostre paure sui vostri pensieri negativi riguardo a questo rapporto quindi se avete paura che questa persona non torni se avete paura che vi abbia mentito che non provi in realtà dei sentimenti e quant'altro cercate di riequilibrarvi di rilassarvi e di pensare positivo non abbiate paura di perdere questa persona perché fate sì appunto che si allontani vediamo un consiglio per voi della variante arancione qua dice meriti amore sei degno di essere amato quindi cosa che vi consigliano beh vi consigliano innanzitutto di accettare tutto quello che vi arriva non abbiate paura anche se non arriva nella forma in cui voi siete abituati a ricevere questo sentimento a ricevere i rapporti a costruirli lasciate che arrivi proprio l'amore il sentimento perché la relazione di per sé è una convenzione che noi abbiamo che è molto diverso da quello che è l'amore andiamo a vedere dei segni zodiacali per voi della variante arancione naturalmente poi ditemi nei commenti se è risuonato con voi questa stesa allora abbiamo il segno del cancro il segno del leone il sagittario il segno dello scorpione ne prendiamo un ultimo e il segno dell'ariete quindi cancro leone sagittario scorpione e ariete va bene variante del simbolino arancione io vi ringrazio moltissimo per aver seguito il video spero che questi interattivi vi servino vi siano d'aiuto in qualche modo io vi ricordo di mettere un like se vi è piaciuto il canale e il video iscrivetevi attivate la campanellina così vi arrivano tutte le notifiche dei video che carico e nulla commentatemi raccontatemi le vostre storie ditemi se la stesa ha risuonato con voi io vi invito anche se mi volete contattare per un consulto privato o anche semplicemente per avere delle informazioni e mandarmi una mail a tarot tai tarot chiocciolagmail.com oppure via whatsapp al 371 636 0228 e trovate tutto i dati sia la mail che il numero di telefono sotto in descrizione sul video io vi mando di nuovo un abbraccione grossissimo vi aspetto domani con una nuova canalizzazione e auguro una buonanotte a tutti